Andiamo! Andiamo al lago di Gardala! Buongiorno! Brighelli partiti, stiamo andando in vacanza! Alessandro dove stiamo andando? Al lago di Gardala! Andiamo al lago di Gardala per qualche giorno e domani dov'è che ti portiamo per il tuo compleanno? Al lago di Gardala! No, al lago di Gardala! A? Gardala! Che è al lago di Gardala! Sì, perché andiamo in apposta con le giostre! Ecco, Alessandro non ha ancora idea di cosa si troverà davanti! Ci vediamo dopo quando c'è il lago! Grazie a tutti! Chavallito! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.